Non si parla di odio, qui si parla semplicemente di buonsenso. In Italia già esisteva una legge per la cittadinanza, quindi tutta la demagogia che viene fatta sul fatto che si diano nuovi diritti ai figli degli immigrati che diversamente non avevano una balla pazzesca, perché l'Italia già aveva delle leggi che avete elencato bene nella fase precedente di questo dibattito, che permettevano ai cittadini stranieri di acquisire la cittadinanza italiana dopo un percorso di integrazione e ai loro figli di diventare cittadini italiani. Quello che sta facendo il Partito Democratico è un'altra cosa. Sull'immigrazione il Partito Democratico ha una politica di apertura totale, l'abbiamo visto con la questione degli sbarchi, su come è stata trattata in sede europea l'emergenza e l'immigrazione, che ormai emergenza non è più, perché quando arrivano 200 mila clandestini all'anno evidentemente non siamo di fronte a un'emergenza, ma siamo di fronte a un fenomeno strutturale che non si vuole contrastare. E quello che viene fatto oggi con la cittadinanza è un mero calcolo politico, perché il Partito Democratico ha bisogno di nuovi voti. visto che sa di averli persi in alcuni fettori della società che li hanno storicamente sostenuto, penso al settore della scuola, dopo la riforma della buona scuola.